Perretto Don Antonio, ricordando i suoi tre affetti, la montagna, la madonna e i malati della barocca, vedevo questi uomini diversi in occasione del suo 45esimo anno di agilità e la società totale. Dov'è Dio? Sta sui monti, nel cielo pieno di stelle, che paiono sorridere ai tuoi occhi. Allora li si piegano i ginocchi ad adorare il silenzio della notte. Sta nella chiesa, ai piedi di Maria, col cuore acceso tra i cieli spelti. Allora si sbalancano le mani ad indicare la celestia. Sta dove passi svelto fra le vie, portando una parola a malotta d'amore, a chi ha il cuore franto dal dolore. Allora ti si armano le labbra, per consolare e perdono la speranza. Dove sta Dio? Il cuore risponde? Dove sta Don Antonio? Le parole sono quelle del Vangelo. Il commento è già fatto dal suo zio. Auguri di ogni bene e grazie per la sua lunga presenza. Movimento della Terza Età.